a me non serve la connessione ma non lo sai però sai che bisogna fare signor aspettate come scrive di fantasi nazi ci presenta problemi con il mio amico fatto dopo un minuto anche connessione e la soluzione siccome è questo dispositivo che tiene il problema a farvi mandare wifi invece il cavo LAN vi funziona quale è l'opzione? questa è una cosa che ti dà favorato cinese i ripetitori no esistono dei ripetitori che vanno in corrente e quelli si prendono il wifi se voi però prendete un ripetitore che si mette in corrente e si collega con il cavo voi portate la connessione dal modem a chi si mette e dovete collegarlo a chi si mette a chi si mette è risolvito il problema e poi c'è e poi c'è che farsi cosa io alla fine nasce un pezzino come attaccato allora chi si chiama ripetitore wifi ok come attaccato con vi vedete ha bisogno di attaccare il suo corpo e va in ambulanza chi lo fa riesce sempre a fare una cosa da chi lo ha comprato però cosa importante che ha dato la possibilità di attaccare il suo filo perchè si è attaccato e non c'è la possibilità di attaccare il suo filo stiamo sempre da capo perchè il suo collega con il wifi e il wifi non funziona non c'è non c'è lì non mi viene attaccato in una settimana con 15-20 euro risolvi il problema con una settimana oppure magari ci fanno 15-20 euro il problema risolvi non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è questo c'è nella soluzione non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è sì sì come si sta a posto è la realtà di una soluzione non c'è staccati e non c'è c'è la domanda commerciante perché poi da gente andiamo direttamente che lato gestore o gestore che lascia proprio dipendono come si muove come si muove noi ci chiamo proprio di staccati ma come si muove di staccati di staccati ma come si muove non c'è l'internet a casa non lo voglio più troppi spese va bene va bene va bene va bene nel frattempo è già facile pure ripetere quindi soprattutto la sua memoria tanto una cosa e la nuova attivazione è una cosa ripetere ok come si chiama come si chiama si chiama un ripetitore ripetitore vuoi fare però vado a tenere guardate ascoltare perché stiamo pure grazie grazie a me mi quindi cosa la da le perché le delle le 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 Grazie.